Apre la stagione turistica primavera-estate dei giardini La Mortella a Forio. Parliamo con la direttrice del parco, la dottoressa Alessandra Vinci Guerra. Quali sono le novità in cartellone quest'anno? Beh, oltre al consueto programma di concerti del sabato e la domenica in questa stagione e in settembre-ottobre, noi abbiamo il cartellone del Teatro Greco con tutta una serie di orchestre giovanili, alcune delle quali presentano veramente delle novità. Ad esempio quest'anno per la prima volta avremo la Madame Butterfly, una delle opere più amate forse dal pubblico italiano. Inoltre quest'anno presentiamo il consueto corso di pittura botanica organizzata dalla pittrice Maria Rita Stirpe. Quest'anno raddoppierà, quindi ci sarà sia in primavera che in autunno perché coloro che si specializzano in pittura botanica vogliono poter cogliere i diversi momenti delle stagioni. Abbiamo un corso di fotografia naturalistica organizzato dalla rivista Gardenia, una rivista di giardinaggio molto nota che si svolgerà nel mese di giugno. E poi da quest'anno una novità, per celebrare l'anniversario della nascita di William Shakespeare avremo una serie di manifestazioni di teatro diffuso nel giardino o teatro itinerante. Durante le sere, il venerdì sera, le sere calde d'estate, avremo una compagnia teatrale che rappresenterà il sogno di una notte di mezza estate, una delle commedie più amate di Shakespeare, che proprio si svolge in un ambiente naturalistico, in un giardino, in vari punti del giardino, per poi culminare con le scene finali al teatro greco. Quindi un cartellone abbastanza vasto, nel quale poi siamo anche orgogliosi di poter dire che avremo una giornata in collaborazione con il Festival della Filosofia in cui ospiteremo una serie di dibattiti e un Alexio Magistralis. Quindi un programma abbastanza intenso. Ecco, intanto i giardini hanno un grande successo proprio in Europa, sono stati più volte votati come i giardini più belli, proprio nel segno anche lasciato da Lady Walton. Sì, il giardino è veramente l'anima di Lady Walton, rispecchia completamente quella che era la personalità della signora. È un giardino quindi vivace, pieno di passione, pieno di allegria, proprio come era lei, e che testimonia, rimasto proprio come testimonianza per Ense, perenne del suo amore per la vita e dell'amore che aveva per il marito, il compositore William Walton.